Salve a tutti amici del canale, benvenuti in questo video speciale che infatti sarà una sorta di cartoon fatto molto alla buona, non vi immaginate grandi animazioni fatto per festeggiare un anno di presenza su YouTube da quando ho deciso un anno fa di intraprendere questa meravigliosa esperienza devo dire innanzitutto grazie a tutti, per chi si è iscritto, per chi non si è iscritto per chi commenta, veramente grazie a tutti, mi fa veramente piacere quello che mi scrivete vedo proprio che mi sostenete e questo mi fa veramente piacere tra l'altro in un solo un anno non immaginavo di arrivare a questo risultato ma è questo ovviamente è più un merito vostro che mio, quindi grazie ancora detto questo vi lascio a questo piccolo cartone animato, spero che vi piaccia e ci vediamo alla fine del video, a dopo! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Ed eccoci giunti alla fine del video, io spero che il cartone animato vi sia piaciuto, ovviamente aspetto i vostri commenti, scrivetemi sotto cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se volete che aggiungo altre specie di pesci, insomma, fate voi. Bene, io vi saluto veramente, vi ringrazio ancora per quest'anno insieme, ovviamente ci aspettano altri anni in avanti e quindi ci vedremo alla prossima pescata. Alla prossima! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.